Con 1907 nuovi casi a fronte di 100.000 tamponi in 24 ore risale la curva dei contagi in Italia. L'Istituto Superiore di Sanità rileva l'aumento dell'età media dei positivi con contagi prevalentemente in ambito familiare. Dai medici il rinnovato appello all'utilizzo delle norme di sicurezza a cominciare da distanziamento e mascherina. Il professor Crisanti critica i sindaci di Bergamo e Milano per la candidatura al G20 della salute del 2021. La Lombardia dice non è un modello da imitare. Nuove pesanti misure restrittive a Madrid e in tutta la Spagna che registra 14.000 contagi e 90 vittime in un giorno. Grave la situazione nel Regno Unito. Il governo ammette che di fronte ai circa 5.000 nuovi casi non può essere escluso un nuovo lockdown totale. La Francia torna ai livelli di maggio con 13.000 nuovi casi e 123 decessi in 24 ore. Positivo anche il ministro dell'Economia, Le Maire. E la paura per i contagi in crescita potrebbe influenzare anche il voto in programma domani e lunedì. Gli elettori chiamate ad esprimersi sul referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari e per rinnovare i consigli di sette regioni. Val d'Aosta, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia. Si vota anche in mille comuni. Un'anime cordoglio negli Stati Uniti per la scomparsa a 87 anni di Ruth Baden-Ginsburg, nominata giudice della Corte Suprema nel 1993 da Clinton. La Ginzburg era considerata un'icona liberal per le sue battaglie per i diritti delle donne e dei gay. Perdiamo un titano della legge, ammette lo stesso Trump, pronto però a sostituirla con un giudice conservatore prima delle elezioni presidenziali. Braccio di ferro con Biden e i democratici. Luca Palamara interviene all'Assemblea dell'Associazione Nazionale dei Magistrati che deve esaminare il ricorso sull'espulsione a seguito dell'inchiesta di Perugia per gravi violazioni del codice etico. Il confronto con la politica sulle nomine è sempre esistito. Non ho mai venduto la mia funzione. Le parole di Palamara. Con Fiorentina-Torino e Verona-Roma comincia alle 18 la nuova stagione di Serie A. Un campionato segnato dall'evoluzione della pandemia con la parziale apertura degli stadi in Emilia-Romagna. Mille persone potranno assistere a Parma-Napoli e Sassuolo-Cagliari, scatenando la reazione della Lega Calcio che chiede chiarezza. E fino al 5 ottobre il mercato, come sappiamo, resta aperto. Buongiorno e buon sabato dal telegiornale della Sette che, come avete capito, apriamo con la crescita dei contagi da coronavirus nel nostro paese. Una crescita progressiva che si conferma però per la settima settimana consecutiva e che ha avuto ieri, nelle ultime 24 ore, un brusco rialzo con 1907 nuovi casi. Va detto subito che i numeri italiani sono sicuramente inferiori e più confortanti rispetto a quelli che tra poco vedremo colpiscono molti altri paesi della stessa Unione Europea. Ma quello che preoccupa le autorità sanitarie, che ricordano ancora il rispetto delle distanze, l'uso della mascherina e di tutte quelle norme di buon comportamento per frenare la pandemia, dicevamo, quello che preoccupa le autorità sanitarie è la crescita del numero dei focolai che sono stati identificati sul territorio nazionale che proprio in quest'ultima settimana hanno fatto registrare un forte aumento. A tornare a crescere è anche l'età media dei malati. I 1907 nuovi contagi registrati ieri alzano ulteriormente la soglia di attenzione nei confronti della diffusione del coronavirus. Rispetto ai quasi 1600 di giovedì c'è stata dunque un'impennata proprio alla fine della settima settimana consecutiva in cui la curva dei contagi ha continuato a salire. Poco meno di 100.000 tamponi processati, 2.000 in meno rispetto a giovedì. È un segnale di allerta che gli esperti non sottovalutano. Questo progressivo peggioramento vede alzarsi l'età media dei positivi nella settimana dal 7 al 13 settembre, periodo analizzato nell'ultimo report dell'Istituto Superiore di Sanità. Da 35 anni di poche settimane fa si è passati a 41. Significa che la trasmissione avviene prevalentemente in ambito familiare. L'infezione passa cioè dai più giovani agli anziani. Questo spiega anche l'aumento lento ma graduale delle persone ricoverate. La situazione negli ospedali è sotto controllo mentre il lavoro più importante continuano a svolgere il Dipartimento di Prevenzione per identificare e contenere i focolai diffusi in tutte le regioni. Quasi 2.400 quelli attualmente attivi. L'ultimo appena isolato in Sicilia. Il governatore Musumeci ha ordinato la creazione di una zona rossa in un centro di accoglienza a Palermo. La missione Speranza e Carità di Biagio Conte. Dopo la scoperta di oltre 30 casi positivi tra le quattro strutture che ospitano 700 persone saranno tutti sottoposti al tampone dopo essersi rifiutati di andare in quarantena obbligatoria in un Covid hotel. A condizionare la diffusione del contagio la riapertura delle scuole e il ritorno al lavoro bisogna continuare ad essere vigili e prudenti rispettare il distanziamento e indossare la mascherina dice Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università di Milano. Un fatto naturale, allontanandoci dal lockdown con l'aumento dei contatti la situazione è destinata a crescere. Il problema è quello di un confronto con l'Europa dove la situazione è ben peggiore della nostra l'autunno sarà caldo la seconda ondata deve essere un elemento teorico a cui far riferimento ma potremo, io spero, continuare a convivere. Di autunno duro a cui andiamo incontro parla anche il Ministro della Salute, Roberto Speranza che sottolinea l'importanza di rispettare le linee guida nazionali i provvedimenti presi in ordine sparso dalle regioni come il Piemonte che puntava a fare misurare la temperatura agli studenti a scuola e non a casa rischiano di creare il caos. Intanto Andrea Crisanti professore ordinario di microbiologia all'Università di Padova si schiera contro la candidatura dei sindaci di Milano e Bergamo a ospitare il G20 Salute 2021 in Lombardia è una vergogna, significa avere sprezzo della decenza dice Crisanti non è questa la regione da prendere come modello sanitario da adottare in un contesto di pandemia. E dunque andiamo a vedere mezza Europa costretta, nuove restrizioni e in allarme per quella che a tutti gli effetti è una seconda ondata di questo contagio da coronavirus con record che vengono segnati in Germania con oltre 14.000 casi in Spagna 13.000 nuovi casi in Spagna nelle ultime ore e in Francia si dicevano nelle ultime ore a spaventare però è la crescita dell'ospedalizzazione e il numero conseguentemente crescente anche delle persone che devono essere curate e trattate in terapia intensiva. Gli oltre 13.000 nuovi casi e 123 decessi delle ultime ore preoccupano la Francia che ripiomba nello scenario di maggio ospedali e terapie intensive tornano a riempirsi e lo stesso ministro dell'economia Bruno Le Maire si è visto costretto all'autoisolamento perché è risultato positivo al coronavirus. Per ora non si parla di nuovi confinamenti ma ci si limita a ripetere le raccomandazioni di rito anche se diverse istituzioni come la prestigiosa sede parigina di Sciences Po hanno chiuso i cancelli visto l'alto numero di positivi tra i propri studenti. Oltremanica lo spettro di un nuovo lockdown nazionale si allunga sulla Gran Bretagna al momento il rafforzamento delle restrizioni è solo parziale ma si allarga di ora in ora ha sempre maggiori porzioni di territorio e sono circa 15 milioni le persone di fatto confinate nelle proprie abitazioni. Il Regno Unito è piegato dalla pandemia e da una crisi economica senza precedenti nella storia recente. Per il Premier Boris Johnson tornare a chiudere tutto sarebbe disastroso ma il Ministro della Salute definendo la situazione molto grave non lo esclude affatto. molto preoccupante anche lo scenario spagnolo con oltre 14 mila casi nelle ultime ore a Madrid in particolare dove sin dagli inizi il virus si è pericolosamente annidato la situazione è definita gravissima e sono state annunciate nuove misure di contenimento a partire da lunedì prossimo che includono intere zone della città da dove non si potrà entrare ed uscire salvo eccezioni. Un provvedimento che riguarderà 850 mila persone nell'intera regione della capitale che è tornata ad essere la più colpita in Europa anche qui le terapie intensive sono tornate a riempirsi secondo gli esperti di ipotesi di un nuovo lockdown sebbene da scongiurare a tutti i costi in base ai dati delle ultime due settimane appare concreta. L'allarme riguarda anche la Germania che con 2300 nuovi infetti torna ai livelli dello scorso aprile ed altri paesi come la Repubblica Ceca dove il numero dei contagi in proporzione al ristretto numero di abitanti traccia un quadro preoccupante. E adesso andiamo a vedere come l'emergenza da coronavirus incroci la sua strada con quella del voto oggi si insediano i seggi domani e lunedì si voterà in Italia quale può essere la ricaduta per la prima volta va detto per votare oltre alla scheda elettorale e alla carta d'identità servirà chiaramente la mascherina obbligatoria c'è da dire che il contagio come vedremo tra un attimo ha spaventato molti scrutatori per quanto riguarda invece gli elettori va da sé che i due giorni che sono stati decisi per questo voto che riguarda sia le regionali che il referendum sul taglio dei parlamentari sono stati decisi proprio per far sì che non ci siano assembramenti o file troppo lunghe ai seggi peraltro in settimana il Viminale con una circolare ai prefetti ha fatto sì che i sindaci venissero allertati per predisporre misure che facilitassero l'accesso ai seggi a persone anziane o più fragili anche con il supporto e l'aiuto dei volontari della protezione civile una serie di regole da far rispettare un'incognita quella di scrutatori e presidenti di seggio che nelle ultime ore stanno dando forfè per la paura di prendere il coronavirus a poche ore dalle elezioni che coinvolgeranno oltre 46 milioni e mezzo di italiani a tenere banco è la preoccupazione covid che da nord a sud coinvolge le sezioni disseminate per il territorio in Puglia Liguria Toscana solo per citare alcuni esempi tanti sono gli scrutatori e i presidenti di seggio che hanno rinunciato presentando certificati medici assenze inusuali che stanno costringendo i comuni a corse contro il tempo per trovare i sostituti volontari della protezione civile in primis ma si pensa anche ai dipendenti comunali a Milano il comune appena pubblicato via social una richiesta si cercano presidenti di seggio proprio nei seggi aperti domenica 20 settembre dalle 7 alle 23 lunedì 21 settembre dalle 7 alle 15 andranno fatte rispettare una serie di norme stilate dal comitato tecnico scientifico e annunciate dal ministero degli interni si vota per il referendum ma anche in 7 regioni campania liguria marche puglia toscana veneto e valle d'aosta ma ci sono da leggere anche 962 sindaci oltre alle elezioni suppletive per il senato che riguardano solo sardegna e veneto mascherina obbligatoria ha vietato presentarsi con più di 37 gradi e mezzo igienizzazione delle mani prima di fornire i documenti e prima di prendere matite e scheda elettorale distanziamento le regole che abbiamo imparato a conoscere e che verranno applicate anche nelle sezioni elettorali l'altra grande novità di queste votazioni riguarda la possibilità per chi è in quarantena un isolamento fiduciario di esercitare il diritto di voto a domicilio bastava una richiesta al comune per poter esprimere il voto a casa proprio raccolto da due scrutatori appositamente formati secondo le prime stime a fronte di almeno 40.000 persone al momento in isolamento solo meno di un migliaio ha chiesto di poter esercitare questo diritto seggi saranno aperti anche negli ospedali con più di 100 posti letto volontari della protezione civile saranno fuori dalle sezioni per aiutare a far rispettare le norme ed evitare nuovi contagi e dunque come detto si vota in sei regioni più la Val d'Aosta ha statuto speciale si vota anche in mille comuni si vota per eleggere i consigli regionali in queste regioni ieri sera è stata chiusa la campagna elettorale la Toscana è l'ago della bilancia di questo voto per quanto riguarda poi quella che può essere e che sarà la lettura politica e anche la ricaduta dell'esito sulla maggioranza di governo chiusa la campagna elettorale per regionali e referendum per leader politici e candidati oggi è il giorno del silenzio in attesa del voto stavolta spalmato su due giorni causa covid così da evitare assembramenti alle urne gli elettori chiamati ad esprimersi sul referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari sono oltre 46 milioni e 600 mila circa 18 milioni e mezzo invece quelli per le regionali si vota anche in mille comuni anche questa campagna elettorale per rinnovare i consigli di sette regioni Valdaosta Veneto Liguria Toscana Marche Campagna e Puglia si è conclusa fra polemiche e appelli con un refrain di sottofondo qualunque siano gli esiti del referendum e del voto regionale non ci saranno conseguenze per il governo a livello nazionale mentre il centrodestra si presenta unito in tutte le regioni la coalizione di maggioranza è riuscita a trovare un accordo solo in Liguria sul ferruccio Sansa che dovrà vedersela con il governatore uscente Giovanni Toti dato per favorito la mancata intesa fra PD e 5 Stelle rischia invece di consegnare la poltrona di governatore al centrodestra in altre regioni storicamente rosse come la Toscana dove si gioca la partita più delicata e si preannuncia un testa a testa fra il candidato di centrosinistra Eugenio Gianni e quella di centrodestra la leghista Susanna Ceccardi il movimento si presenta invece da solo con i reni galletti anche nelle Marche regione rossa da 25 anni il centrodestra parte agguirrito con Francesco Acquaroli fratelli d'Italia pronto a sfidare Maurizio Mangialardi sostenuto dal centrosinistra ma non dai 5 Stelle che corrono in solitaria con Gian Mario Mercorelli altra regione di sinistra che potrebbe cedere la poltrona e la Puglia tre i candidati che sperano nella vittoria il governatore uscente Michele Emiliano appoggiato da PD e Leu ma non da Italia Viva che si presenta con Iva Scalfarotto l'Azzurro e già presidente Raffaele Fitto appoggiato da tutto il centrodestra e la consigliera regionale 5 Stelle Antonella Laricchia la sfida è aperta il risultato un'incognita non ci dovrebbero essere sorprese invece in campagna dove l'attuale governatore Vincenzo De Luca candidato di centrosinistra si prepara a bissare il suo mandato De Luca è dato per favorito sia sul suo diretto avversario l'Azzurro Stefano Caldoro anche lui è già guidato la regione che sulla 5 Stelle Valeria Ciarammino risultato quasi scontato invece in Veneto dove l'attuale governatore il leghista Luca Zaia si è presto ad essere riconfermato lasciando poche probabilità di vittoria al suo avversario di centrosinistra Arturo Lorenzoni ricordiamo che i seggi rimarranno aperti domani dalle 7 alle 23 lunedì dalle 7 alle 15 subito dopo inizierà lo spoglio del referendum poi regionali e comuni ecco a proposito di orari e appuntamenti ricordiamo anche che lunedì dalle 14 e 15 sulla 7 comincerà la consueta maratona elettorale condotta da Enrico Mentana con collegamenti ospiti risultati e analisi del voto dicevamo il referendum con gli elettori chiamati a decidere sul taglio dei parlamentari va detto che non c'è quorum dunque qualsiasi sia il numero dei voti espressi il referendum sarà da considerarsi valido domani e lunedì si voterà per il referendum costituzionale sulla riduzione di un terzo del numero dei parlamentari di Camere e Senato si vota sì o no e non è necessario il raggiungimento del quorum il taglio dei parlamentari è previsto dalla riforma approvata dalle Camere in ottobre votata con quattro passaggi parlamentari il quorum non è previsto proprio perché si tratta di un referendum costituzionale se vince il sì entrerà subito in vigore la vittoria dei sì modificherebbe gli articoli 56 e 57 della Costituzione si tratterebbe di un taglio lineare la Camera passerebbe così dagli attuali 630 deputati al 400 al Senato invece 315 senatori diventerebbero 200 anche i parlamentari eletti all'estero si ridurrebbero dagli attuali 18 a 12 l'Italia passerebbe se confrontata Germania Spagna Regno Unito e Francia seppur con sistemi diversi da secondo paese per numero di rappresentanti in Parlamento a ultimo cambierebbe anche la proporzione tra il numero di deputati e quello di cittadini oggi abbiamo un deputato ogni 96.000 italiani con il taglio ce ne sarebbe uno ogni 151.000 idem al Senato da un senatore ogni 188.000 abitanti si passerebbe in media a uno ogni 302.000 nessuno in Europa tra i paesi già citati ha un simile rapporto il Senato eletto su base regionale oggi la Costituzione prevede per ogni territorio un numero minimo di seggi 7 senatori per ogni regione tranne 2 per il Molise e 1 per la Valle d'Aosta se vincesse il sì il numero minimo sarà di 3 senatori per regione o provincia autonoma la vittoria del sì però produrrebbe un risparmio annuo calcolato di circa 82 milioni di euro 53 alla Camera 29 al Senato le spese generali gestione degli uffici cancelleria telefoni fondi ai gruppi più difficili da quantificare secondo alcune stime si aggirerebbero attorno ai 30 milioni di euro l'anno i seggi saranno aperti domenica 20 settembre parliamo adesso del caso procure perché questa mattina davanti all'assemblea nazionale dell'associazione magistrati ha parlato Luca Paramat Palamara sottolineando anche che il confronto con la politica sulle nomine è sempre esistito ricordiamo che Palamara ha presentato ricorso contro l'espulsione da quello che è il sindacato delle TOG di cui è stato presidente per gravi violazioni del codice etico non sono un corrotto non sono un corrotto non ho mai venduto la mia funzione a nessuno sono stato travolto e nella fiumana mi sono perso ma non mi sento di essere stato moralmente indegno davanti all'assemblea degli iscritti dell'associazione nazionale magistrati Luca Palamara pronuncia la sua autodifesa è stato lui a chiedere di intervenire a lungo presidente della stessa ENM che lo ha sospeso da un anno dalle funzioni e dallo stipendio per gravi violazioni del codice etico Palamara ha chiesto di essere ascoltato stamattina dal sindacato delle TOG ha presentato un ricorso contro la decisione adottata dal direttivo dell'ENM di espellerlo dall'associazione dopo che è finito nella polvere al centro dell'inchiesta della procura di Perugia che per lui ha chiesto il processo accusandolo di corruzione viaggi regali soggiorni in cambio del controllo sulle nomine delle procure accusa che lui continua a respingere sono qui perché penso che prima vengano gli interessi di tutti della magistratura dei colleghi che mio malgrado sono stati travolti il confronto con la politica sulle nomine è sempre esistito dice a proposito della riunione all'hotel champagne sulla nomina del procuratore di Roma incontro finito nelle carte giudiziarie era il 9 maggio del 2019 e intorno al tavolo c'erano insieme a Palamara il deputato di Italia Viva Cosimo Ferri Renziano Luca Lotti e altri ex consiglieri del CSM con il caso Palamara è precipitata la fiducia dei cittadini nella magistratura una gravissima perdita di credibilità dice il presidente della NM Luca Poniz Palamara è sotto processo disciplinare nel CSM che ha fissato la prossima udienza il 23 settembre e adesso andiamo negli Stati Uniti innanzitutto perché è morta all'età di 87 anni la giudice della Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg è considerata un'icona dell'ala liberal una delle paladine negli anni 70 della lotta per i diritti delle donne per l'emancipazione femminile Donald Trump l'ha ricordata come un colosso un gigante della legge adesso però c'è da chiedersi chi prenderà il suo posto perché come si è affrettato a ricordare lo sfidante in campo democratico Biden la scelta spetterà al nuovo presidente ma è chiaro che Donald Trump sembra avere la tentazione di decidere lui e subito ricordiamo anche che i repubblicani hanno la maggioranza nel supremo organo di giustizia americano l'America dice addio a Ruth Bader Ginsburg giudice icona liberal della Corte Suprema nominata nel 1993 dall'allora presidente Bill Clinton seconda donna dopo Sandra Day O'Connor nella storia degli Stati Uniti a ricoprire l'incarico del massimo organo giudiziario l'87enne Ginsburg è morta a Washington DC per complicazioni legate al cancro al pancreas che l'aveva colpita da tempo il mio più fervente desiderio è di non essere sostituita fino a quando non si sarà insediato il nuovo presidente le sue ultime volontà affidate alla nipote nata nel quartiere new yorkese di Brooklyn da genitori ebrei immigrati dalla Russia laureata ad Harvard e diventata avvocato in un momento in cui le donne erano tutt'altro che volute per la professione forense Ginsburg è stata l'architetto legale della lotta per i diritti delle donne e l'emancipazione femminile negli anni 70 la sua prima rinomata opinione come giudice risale al 1996 quando venne dichiarata in costituzionale la policy del Virginia Military Institute che da 157 anni ammetteva solo uomini minuta e riservata senza mai alzare la voce i suoi io dissento sono diventati proverbiali visto che era una tra i quattro giudici progressisti dei nove totali con la sua morte la Corte Suprema si avvia verso una schiacciante maggioranza conservatrice fonti citate dall'emittente americana ABC raccontano che Donald Trump sarebbe già pronto a presentare una nomina per rimpiazzarla e il Senato a maggioranza repubblicana pronto a votarla già in sorti i democratici chiedono che la sostituzione avvenga solo dopo le elezioni del 3 novembre ha presa la notizia della morte della giudice durante un comizio in Minnesota diventato uno stato contendibile dove era arrivato anche lo sfidante democratico Biden Trump ha ricordato i suoi 27 anni di servizio presso la Corte l'ha definita un titano della legge e ha ordinato bandiere a mezzasta alla Casa Bianca d'accordo sul fatto che Ginsburg rappresentasse tutti gli americani dei quali era un'eroina un gigante della dottrina legale e una voce implacabile nel perseguimento della giustizia equa secondo la legge Biden replica a Trump permettetemi di essere chiaro gli elettori debbono scegliere il presidente e sarà il presidente a disegnare il successore della giudice Ginsburg apprezzamenti le sono stati dedicati dalla speaker della camera Nancy Pelosi da Bill Clinton che l'aveva nominata dall'ex presidente repubblicano George W. Bush così come dalle star di Hollywood Barbara Streisand Mariah Carey Jennifer Lopez e da regista e attivista Michael Moore ecco noi adesso restiamo negli Stati Uniti per parlare ancora una volta del caso TikTok lo sapete l'app di proprietà cinese di condivisione di video molto diffusa tra i giovani è considerata dall'amministrazione Trump un pericolo per la sicurezza nazionale ebbene al bando di Trump vediamo qual è stata la rappresaglia cinese Sanzioni alle aziende restrizioni alle attività e all'ingresso di materiale personale in Cina la risposta di Pechino alla decisione statunitense di vietare a partire da domani di scaricare le applicazioni TikTok e WeChat di proprietà dei giganti cinesi ByteDance e Tencent non si è fatta attendere esortiamo gli Stati Uniti ad abbandonare il bullismo e accessare le sue azioni illecite ha intimato il Ministero del Commercio di Pechino se gli Stati Uniti insisteranno su questa strada la Cina adotterà le misure necessarie a salvaguardare risolutamente i diritti e gli interessi legittimi delle società cinesi e quelle contromisure dunque sono arrivate con l'annuncio delle sanzioni la lista includerebbe quelle aziende le cui attività violano la sovranità nazionale della Cina e i suoi interessi di sicurezza e sviluppo o violano le regole economiche e commerciali accettate a livello internazionale l'annuncio della Cina è una contromossa alla decisione di Washington che a sua volta aveva lanciato un ultimatum a TikTok accusandola di spionaggio industriale abbiamo delle opzioni per TikTok non faremo nulla che possa mettere in pericolo la nostra sicurezza aveva detto Donald Trump del resto le parole del segretario al commercio americano Wilbur Ross erano state chiare intendiamo adottare le misure per combattere la maligna raccolta di dati personali degli americani da parte della Cina che minacciano la sicurezza nazionale la politica estera e l'economia americana siamo in disaccordo con la decisione del dipartimento del commercio e siamo delusi dal blocco dei nuovi download da domenica e sul divieto di uso delle app TikTok dal 12 novembre aveva replicato il social con l'annuncio di oggi dunque Pechino muove un'altra delle sue pedine nella delicata e complicata scacchiera della guerra commerciale nata con gli Stati Uniti il duello a distanza tra le due superpotenze sembra però destinato ad ampliarsi anche il gigante cinese delle telecomunicazioni Huawei è sulla lista nera di Washington gli Stati Uniti stanno infatti esercitando pressioni su paesi europei affinché escludano Huawei dalle loro future reti 5G potrebbe essere questo uno dei temi nell'agenda del segretario di Stato Pompeo che nei prossimi giorni arriverà in Italia in un piccolo centro dello Stato di New York una sparatoria in una villa durante una festa privata circa 100 invitati una sparatoria che ha fatto due morti 14 feriti con la polizia che tuttora sta indagando per comprendere le dinamiche del caso 16 persone sono rimaste coinvolti in una sparatoria avvenuta durante una festa con almeno 100 invitati in un giardino di una casa privata tutto è avvenuto attorno alla mezzanotte alle 6 del mattino in Italia a Rochester città di circa 200.000 abitanti nel nord dello Stato di New York due le vittime un ragazzo è una ragazza che avrebbero un'età compresa tra i 18 e 22 anni 14 feriti ricoverati in ospedale nessuno sarebbe in pericolo di vita a fare fuoco probabilmente un solo uomo che la polizia sta ancora cercando anche se non si escludono possibili complici in realtà sono pochissimi i dettagli trapelati fino ad ora sconosciuti i motivi che hanno provocato questa ennesima strage forse una rissa come lascia intendere la polizia la festa era illegale non ne sapevamo nulla finché non siamo stati chiamati dal 911 quando siamo arrivati sul posto c'era il caos fuori si erano radunate centinaia di persone c'era troppo arcole troppa gente un mix perfetto per far esplodere la violenza è una tragedia una vergogna per la nostra comunità ha detto il capo della polizia Mark Simmons gli agenti in questo momento stanno interrogando i tanti testimoni procedura complessa visto che molti sono sotto shock solo fra qualche ora ci sarà una vera e propria conferenza stampa dalla quale dovrebbero emergere maggiori particolari torniamo in Italia e lo facciamo per parlare adesso dei monopattini elettrici perché ci sono molte infrazioni del codice della strada che vengono registrate sull'uso che sta prendendo piede nelle nostre città di questo mezzo legato alla mobilità sostenibile ma che deve essere regolamentato urgentemente anche a fronte di un numero sempre più crescente di feriti e vittime di incidenti li hanno appena fermati e multati in due sul monopattino a Milano da luglio a oggi su 350 multe il 30% è per passeggero a bordo sono in maggioranza giovani a non rispettare le regole scritte nel codice della strada di fatto le stesse valide per le biciclette salvo la differenza per l'età i minorenni infatti possono noleggiare il monopattino dai 14 anni in su e devono avere il patentino per il motorino spesso accade che utilizzano account dei genitori o amici maggiorenni tra i trasgressori della nuova mobilità sostenibile c'è di tutto manager cittadini e turisti in Italia non esiste un vero allarme monopattino ma piuttosto un problema da affrontare quanto prima regolamentare chiaramente la circolazione con il velocipide stabilire in modo stringente cosa si può fare e dove si può circolare viceversa ecco i divieti non si può trasportare un passeggero non si può andare sul marciapiede e bisogna limitare la velocità in determinate località a far scattare l'allerta sono stati i numeri forniti dall'agenzia regionale di emergenza urgenza raccolti dal primo giugno ad oggi ovvero 151 incidenti con i monopattini elettrici in solo tre mesi nel comune di Milano una decina nelle ultime 48 ore vale a dire più di uno al giorno nel capoluogo Lombardo il fenomeno al di là di chi guida e non rispetta le regole è determinato soprattutto dalla domanda solo di sharing a Milano ci sono 6.000 mezzi in circolazione più quelli dei privati il capoluogo Lombardo e la città d'Italia con il numero più alto di utilizzo del mezzo simbolo della micromobilità green chiaro quindi che i rischi già elevati di per sé aumentino su 151 incidenti in 136 casi è intervenuto un mezzo di soccorso solo in 15 casi non è stato necessario l'arrivo dell'ambulanza quanto alle multe i dati parlano chiaro il 59% sono monopattini privati il 41% a noleggio nelle zone del centro e della Movida le società di sharing d'accordo con le forze di polizia hanno ridotto la velocità del mezzo il conducente di un monopattino in sharing appena entra in piazza Duomo in qualsiasi area pedonale dove è consentita la circolazione in automatico interrompe la velocità e la riduce a 6 km orari resta invece il problema degli incidenti nelle vie a scorrimento veloce quando i monopattini si mischiano tra le automobili sottovalutando i rischi di manovre improvvisi e azzardate su Facebook è intervenuto anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala ribadendo come il codice della strada non può essere sottoposta a interpretazioni né ad eroghe e poiché il monopattino elettrico si sta diffondendo in tutte le grandi città internazionali così e anche a Milano l'appello è soprattutto a un maggior senso di responsabilità degli utenti da metà luglio di quest'anno c'è una indagine aperta dal Tribunale di Milano il Dipartimento Tutela della Salute dell'Ambiente e Lavoro guidato dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano ha chiesto un report mensile sugli incidenti con relativi documenti indagini in corso ci fermiamo adesso per qualche istante e poi torniamo con la pagina sportiva perché oggi ricomincia la stagione di Serie A e ci sono anche molte novità che riguardano il pubblico sugli spalti Torniamo in studio parliamo del campionato che con una tempistica del tutto inedita e alquanto compressa rispetto alla chiusura della passata stagione oggi prende il via lo fa nel pomeriggio con Fiorentina Torino e poi questa sera a Verona di scena la Roma è una partenza al buio perché mai era successo che tra un campionato e l'altro ci fosse uno spazio temporale di appena un mese e mezzo preparazioni ridotte pochi amichevoli nessun vero rodaggio e mercato ancora aperto per altre due settimane si parte insomma sotto l'insegna dei lavori in corso prendete la nuova Juve di Andrea Pirlo nel precampionato ha giocato solo un test alle 10 di mattina contro il Novara è come se in Formula 1 le macchine si presentassero alla partenza del mondiale con un motore nuovo e senza aver effettuato nemmeno un giro di prova un salto nel buio appunto l'ultima volta che un campionato partì a settembre inoltrato per l'esaltezza il 30 fu nel 2000 vinse la Roma di Capello allora il ritardo fu dovuto ai giochi di Sidney stavolta è tutto dannatamente più complicato di mezzo c'è un'epidemia che non accenna a diminuire il semaforo verde si accenderà alle 18 con il primo anticipo Fiorentina-Torino due squadre che hanno scelto strade opposte i toscani quella della continuità conferma del tecnico Iachini e quindi del modulo di gioco e qualche innesto di qualità i piemontesi hanno scelto di cambiare affidandosi a Giampaolo che ama possesso il pressing in serata l'altro anticipo verona Roma la grande curiosità è legata all'utilizzo di Dzeko che ha viaggiato regolarmente con la squadra Fonseca non ha escluso il suo utilizzo dovesse accadere sarebbe quasi sicuramente l'ultima apparizione del bosniaco con la maglia giallorossa prima di sbarcare a Torino sponda Juve il suo posto verrà preso da Milica manca solo l'ufficialità il piatto forte sarà domani in serata quando scenderà in campo la nuova Juve il primo ostacolo non è dei più duri la Sampdoria dei Ranieri più difficili quelli successivi Roma e Napoli ma comunque basterà per farsi un'idea di quello che ha in testa Pirlo che ha detto di amare pressing possesso e calcio offensivo a chiudere la prima giornata lunedì sera e l'interessante Milan Bologna si tratterà di una chiusura parziale perché a causa del Covid che ha fatto sgristare ad agosto le coppe europee sono tre le gare rinviate al 30 settembre Benevento Inter Udinese Spezia e Lazio Atalanta Covid e calcio ieri vi abbiamo raccontato le parole del Ministro dello Sport Spadafora con quell'apertura a giocare a disputare eventi sportivi con la presenza di pubblico mille persone per quelli che si tengono all'aperto il riferimento era proprio alle semifinali alle finali degli internazionali d'Italia di tennis che si tengono tra domani e lunedì al Foro Italico di Roma un'occasione un'apertura presa al volo dal governatore dell'Emilia Romagna Bonaccini che ha deciso di fare entrare queste mille persone negli stadi delle due partite che si giocheranno proprio nella sua regione un qualcosa che ha spiazzato la Lega che adesso chiede chiarimenti Mille spettatori a Parma dove è atteso il Napoli altrettanti a Reggio Emilia per Sassuolo Cagliari domani due stadi dell'Emilia Romagna riapriranno parzialmente al pubblico ma la mossa del governatore Bonaccini che ha autorizzato gli ingressi contingentati negli impianti della sua regione non è piaciuta né al Kodakons né soprattutto alla Lega Calcio la Serie A merita rispetto bisogna pianificare le cose dialogando ha dichiarato questa mattina il presidente D'Alpino a poche ore dalla videoconferenza convocata per oggi pomeriggio alle 15 con le 20 società l'obiettivo è stabilire una linea comune auspicata anche dal numero 1 del CONI Malagò al momento il DPCM in vigore prevede la chiusura degli stadi fino al 7 ottobre la prima gara con i tifosi sarà il derby Inter Milan del 17 a San Siro pieno probabilmente al 30% della sua capienza la fuga in avanti di Bonaccini che non sarà impugnata dal governo è stata ispirata dalle parole del ministro dello sport Spadafora che ha aperto ieri ad un massimo di mille persone i cancelli degli internazionali di tennis per semifinali e finali e in generale per tutti gli eventi all'aperto con distanziamento mascherine e prenotazione dei posti a sedere una deroga che però non vale per il calcio l'ordinanza dell'Emilia Romagna sarà tuttavia recepita solo parzialmente da Parma e Sassuolo i due club non metteranno in vendita i biglietti per domani questione di tempo e di ordine pubblico si entrerà su invito se le cose andranno avanti così non vedo perché non si possano riaprire gli stadi con un numero molto ridotto di persone e con regole definite le parole di questa mattina a Bologna del vice ministro della salute Sileri intanto il Veneto segue l'esempio dell'Emilia Romagna il presidente della regione Zaia ha appena firmato un'ordinanza che dà il via libera ai tifosi al massimo 1000 negli impianti all'aperto e 700 nei palasport stasera però il Bentegodi rimarrà chiuso al pubblico per Verona Roma ecco a proposito degli internazionali d'Italia di cui faceva accenno il servizio diciamo che Matteo Berrettini è in campo nei quarti sta cercando l'accesso alla semifinale contro il norvegese Rud Berrettini ha vinto il primo 7-6-4 ha perso il secondo 6-3 è nel vivo della battaglia del terzo set in una giornata che vedrà subito dopo di lui in campo Djokovic e poi in serata chiudere il programma anche lo spagnolo Rafa Nadal è davvero tutto per questa edizione del telegiornale grazie per essere stati con noi prossimo appuntamento con l'informazione alle ore 20 noi ci rivediamo domani buon pomeriggio grazie per la visione